Ciao a tutti amanti di Minecraft, io sono Luke e benvenuti in questo video dove vi spiegherò un po' in cosa consiste questo video. Bene, siamo su un'isola, un'isola generata totalmente a caso e su questa isola sta per iniziare una serie, una serie che però non farò io ma farete voi. In che senso? Nel senso che io ora in descrizione vi metterò un link di una pagina Facebook, la mia pagina di Facebook, però non vi metto subito il link perché ci sto ancora lavorando, credo che entro subito, vi metterò il link comunque sia aggiornate pagina ogni tanto del video quando troverete quel link, dovrete solamente iscrivervi a quella pagina. L'iscrizione dovrà venire con il vostro nome di YouTube, perché? Perché io poi in un mio live vi manderò un feed sul mio canale del mio live, probabilmente andrò in live verso le 20 di sera, probabilmente, molto probabilmente stasera, 2.10.20, andrò in live alle 20, se non riesco oggi ragazzi sarà domani, comunque mando sempre un feed sul mio canale, in qualche modo ve lo farò sapere, dove io tramite quella pagina di Facebook e il sito random.org, o .com o quel che l'è, sceglierò 6 partecipanti random, i primi 6 nomi che verranno pubblicizzati, dovranno contattarmi sempre in live davanti a tutti, così vedrete che non scelgo gente che voglio io ma totalmente random, e questi 6 inizieranno la loro avventura. L'avventura in cosa consiste? Consiste nel sopravvivere, costruire, divertirsi, giocare e farsi conoscere, conoscere altra gente, gli altri 5 partecipanti perché sarete in 6, e farvi conoscere dal pubblico. La serie durerà ben 15 giorni dall'inizio, e su 6 persone ci saranno 4 eliminazioni, per cui verrà eliminato il sesto, il quinto, il quarto, e poi l'ultima eliminazione saranno gli ultimi 3 rimanenti, il terzo posto, il secondo posto, e poi l'unico vincitore. L'unico vincitore che si aggiudicherà un premio, un premio che ancora non ho stabilito quale premio sia, ma ve lo dirò all'inizio della serie, comunque sia, spero vi piaccia, è un bel premio veramente, è una specie di contest. Ripeto, la serie durerà 15 giorni, per cui ne riuscirò a fare 2 in un mese, e farò la prima stagione che inizierà oggi o domani, poi farò la seconda stagione sempre questo mese, e se riesco anche nei prossimi mesi successivi, se la serie vi piace. La serie si chiamerà l'isola dei non famosi, i non famosi sarete voi, o chiunque partecipa, con sorprese, con ingressi speciali nel server, con prove e missioni, con, ripeto, sopravvivenza, perché chi muore, chi muore in questa serie, per cui io vi controllerò, comunque sia, ci saranno i controllori, chi muore verrà automaticamente eliminato, per cui dovrà abbandonare l'isola e il server, e non potrà giudicarsi il premio. Un'altra cosa, sì, le votazioni, le votazioni ragazzi non sarò io a scegliere vincitore, non sarò io a scegliere gli eliminati, non sarò io a fare nulla, ma bensì voi che guardate, il pubblico, il pubblico durante i miei live, farò dei live sul mio secondo canale, all'improvviso, per cui i partecipanti, i sei partecipanti non sapranno quando andrò in live, io quando li vedo connessi nel server, all'improvviso andrò in live, manderò un feed sul mio canale, sperando che loro non si accorghino che sono in live, in modo che io entro in live automaticamente, loro saranno su un TS preso da me, per cui anche se loro parleranno dei cavoli vostri, io andrò in live, vi farò ascoltare ciò che stanno dicendo, per cui chi partecipa vi consiglio di parlare sempre di voi stessi, farvi con conoscere, divertirvi, ci sarà una specie di regolamento, niente bestemmie, meno parolacce possibili, possibilmente, soprattutto chi partecipa e chi si iscrive alla pagina Facebook, dovrà essere munita di Minecraft, va benissimo anche l'SP, e un buon microfono diciamo, perché quando si collega nel server per giocare, deve automaticamente collegarsi al TeamSpeak, in modo che in ogni momento io posso registrare la loro voce e farvi sentire ciò che dicono, come un vero e proprio reality, solo che invece che farlo nella vita reale, si svolgerà tutto nell'isola di Minecraft, da Luke è tutto, e chi sarà il vincitore della prima stagione, o perlomeno l'ultimo che rimarrà su quest'isola, potresti essere anche tu che stai guardando, da Luke è tutto, ciao a tutti. Grazie.